Un pranzo non pagato è diventato indigesto ad un uomo di 47 anni residente nella provincia di Teramo, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di una nota trattoria del centro aquilano. Nello scorso mese di ottobre due clienti hanno consumato un pranzo completo per un totale di 64 euro e con una scusa si sono poi allontanati senza più saldare il conto. Uno dei due, vedendosi rifiutata la transazione effettuata con la propria carta di credito, in quell'occasione ha lasciato al titolare del ristorante una carta d'identità, promettendo a quest'ultimo che sarebbe ritornato subito a pagare per poi invece allontanarsi a bordo di un autocarro. Dai accertamenti eseguiti dall'Ufficio Prevenzione Generale è emerso che la carta d'identità lasciata al titolare della trattoria era la fotocopia a colori plastificata dell'effettiva carta d'identità dell'indagato. Pertanto l'uomo, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila. Una vicenda simile a quella che accadde nel 2014 ad Angri, in Campania. In quel caso un uomo di 54 anni si recò in visita dalla sorella senza un soldo in tasca né tantomeno documenti. Non avendola trovata in casa, decise di tentare la bravata. Una volta consumato il pranzo in un locale della zona, in compagnia di due bottiglie di vino pregiato, si dileguò approfittando della confusione domenicale. Il disonesto ebbe però un malore e si accasciò lì vicino. A notarlo fu un gruppo di automobilisti che chiamò prontamente i soccorsi. Dopo essere stato aiutato dal personale del 118, l'uomo confessò il reato, saldando poi il conto. Grazie. 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 Grazie.